Spazi d'Ozio, una rassegna estiva giunta alla più direzione del Teatro del Cerchio, anche quest'anno avrà tantissimi appuntamenti, una programmazione di 21 serate dal martedì al venerdale. Avremo un concorso internazionale di circo con artisti di tutto il mondo, serate invece gli spettacoli di circo con i vinc selezionati al teatro necessario, è una serata speciale dedicata agli artisti parmigiani che racconteranno di quattro personaggi parmigiani più o meno conosciuti. Il tutto ovviamente condito anche con delle specialità gastronomiche parmigiane che si potranno degustare, col vino servito in ioffa, nella ciotola, così come si faceva nelle osterie una volta. Ad ogni tavolo sarà seduto un'attrice o un attore che insieme ai commensali racconterà la storia del nostro cibo locale e del terreno. I quattro personaggi parmigiani, si parlerà di Alina la strega, questa Alina che è stata bruciata in Piazza della Ghiaia perché è ritenuta eretica, ci sarà Nicol Fontana ovviamente conosciuta da tutti, Arturo Toscanini, altro personaggio, e Antonio Puri che è il carabiniero di cui c'è questa lapide sul Ponte delle Nazioni, che fu il carabiniero appunto che negò per salvare un ragazzo nel terrente Parma e racconteremo un po' la sua storia. Grazie.